Federica Iezzi, gruppo Lischami, uno dei gruppi più longevi in Italia per quanto riguarda la didattica e l'educazione dei più piccoli. Fiera del libro dei ragazzi Bologna. Parto da una domanda semplice. Perché siete qua? L'appuntamento certamente per noi è un appuntamento importante perché siamo presenti nell'editoria per ragazzi da tanti anni. Il nostro background è pieno di esperienze nell'ambito della scuola, quindi guide didattiche per insegnanti, corsi ministeriali per bambini, per alunni. Quindi facciamo parte di questo mondo, il mondo dell'editoria a tutti i livelli. La nostra capacità di produrre prodotti e servizi ludattico-educativi che oggi giorno è arrivata addirittura a produrre anche cartoni animati, passando per giochi, giocattoli e tutto ciò che per i bambini è formativo ed è assolutamente importante, ci porta ad essere presenti alla fiera del libro per ragazzi con tutto il nostro bagaglio di esperienze e con tanti prodotti e con tante novità. A proposito di prodotti e novità c'è una presenza che è un po' inquietante ma è molto simpatica alle sue spalle. Ci racconta, eccola che ci sta salutando, ci racconta chi è, che cos'è e perché anche questa carota, carotina, è qua in fiera. Carotina è il nostro personaggio di punta prescolare, noi sviluppiamo con carotina tutti i nostri prodotti prescolari, quindi dai giochi, giocattoli, l'elettronica i tech, quindi tablet, i libri di varia che sono assolutamente formativi. Da qualche anno stiamo sviluppando anche cartoni animati con carotina che i bambini possono vedere in televisione dove possono apprendere tantissime cose, quindi carotina è un personaggio che esprime apprendimento, esprime divertimento, quindi l'apprendimento ludico e esprime al meglio, forse uno dei personaggi che esprime al meglio veramente il cuore di questa azienda, quindi Lisciani e carotina sono assolutamente vicini dal punto di vista dei contenuti. Sembra che le si illuminano gli occhi a parlare di carotina? Siamo molto entusiasti perché è un personaggio che ci dà tante soddisfazioni e quindi speriamo naturalmente ce ne dia sempre di più in futuro. Un'ultima domanda, quanto studio, quanta ricerca, quanto investimento c'è nel creare, realizzare, distribuire prodotti educativi per bambini? Tantissimo perché la nostra concentrazione è assolutamente focalizzata sulla qualità didattica. Per noi un prodotto educativo deve rispondere a tanti requisiti, deve assolvere delle funzioni. Per noi un prodotto educativo deve portare il bambino a raggiungere degli obiettivi educazionali divisi per funzioni e quindi abbiamo un centro di ricerca interno che si occupa di questo ed è assolutamente dedicato a tutti i livelli, per tutte le linee di prodotto, a raggiungere questi obiettivi attraverso lo sviluppo dei prodotti educativi. Quindi per noi è un must, così come la capacità di produrre prodotti innovativi con contenuti didattici. Quindi noi facciamo tanta innovazione ma tanta qualità, perché questa è la strada, è un po' il cuore dell'azienda, il nostro background, il nostro humus, quindi è lì che troviamo risposta anche da parte del consumatore. Ci riconosce molto per la qualità didattica. Grazie. Grazie.